benvenuti in questa guida top 7 macchine telecomandate di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo macchina telecomandata 2.4 ghz questa macchina telecomandata è un divertimento assicurato per i bambini di 6 16 anni con una velocità massima di 20 chilometri all'ora due batterie ricaricabili e 60 minuti di gioco questa macchina offre ore di divertimento senza fine il design robusto e resistente all'acqua rende questa macchina adatta a qualsiasi condizione atmosferica punteggio sesta posizione al sesto posto troviamo vb kkt y macchina telecomandata per bambini questa macchina telecomandata per bambini è un divertimento assicurato la batteria ricaricabile la tecnologia 2.4 ghz e la rotazione a 360 gradi offrono ore di divertimento senza fine il design robusto e resistente garantisce che sia adatto a tutti i tipi di terreno punteggio 77 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo blasland macchina telecomandata giocattoli per questa macchina telecomandata è un regalo perfetto per i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni ha una rotazione a 360 gradi luci led e un design moderno i bambini possono divertirsi all'aperto o al chiuso con questa macchinina elettrica un giocattolo divertente e di qualità che soddisferà sicuramente i bambini punteggio 82 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare macchina telecomandata selvi macrobatica rc questa macchina telecomandata è un divertimento assicurato la rotazione a 360 gradi e il controllo gestuale rendono le acrobazie ancora più emozionanti la batteria ricaricabile x2 garantisce ore di divertimento senza interruzioni un regalo perfetto per i bambini che amano le macchine radiocomandate punteggio 85 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo macchina telecomandata 4 w drc auto questa macchina telecomandata è un divertimento assicurato ha una rotazione a 360 gradi acrobazie e stanti incredibili la velocità è impressionante e la qualità dei materiali è eccellente un regalo perfetto per i bambini che amano le macchine telecomandate punteggio 85 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo cmi lunga rc cars lamborghini aventador questa macchina telecomandata lamborghini aventador lp 704 è un giocattolo di lusso la scala 1 e 24 è perfetta per i bambini e le luci di lavoro 2,4 gigahertz sono un tocco divertente la licenza ufficiale aggiunge un tocco di realismo e la qualità dei materiali è eccellente punteggio 89 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica macchina telecomandata auto rc camion questa macchina telecomandata è un giocattolo divertente e ricaricabile che offre ore di divertimento a una velocità di 15 chilometri all'ora 2,4 gigahertz e un design fuoristrada ideale come regalo di natale per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni un'ottima scelta per i giochi all'aperto punteggio 92 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale